L'Istituto Omnicomprensivo di Polla è in campo per la formazione non solo dei ragazzi ma anche degli adulti. Giovedì 26 gennaio e martedì 31 gennaio l'auditorium dell'Istituto Comprensivo di Polla ospiterà due giornate di seminario formativo che vedranno la presenza del massimo esperto in formazione per ciò che riguarda la gestione dei progetti PON, il professor ingegner Mario Schember. Grazie alla sua presenza quindi i docenti e dirigenti delle sezioni amministrative e dei servizi generali nonché il personale amministrativo delle scuole di ogni ordine e grado potrà apprendere nozioni capaci di aiutarli nella gestione dei diversi progetti che le scuole intendono mettere in atto avvalendosi dei fondi che saranno messi a disposizione dall'Europa oltre che per cercare di intercettare le risorse del PNRR. La dirigente scolastica dell'Istituto Omnicomprensivo di Polla, Sabrina Rega, ha voluto quindi portare a Polla il massimo esperto di gestione delle progettazioni. Una a due giorni che prevede per il 26 gennaio una doppia sezione formativa con il professor Schember che dopo i saluti della dirigente scolastica Rega approfondirà i temi legati al codice degli appalti e la gestione del CIMOG-CIG, argomento su cui si concentrerà la sezione mattutina del 26 gennaio. Nel pomeriggio le relazioni del professor Schember si concentreranno sul tema delle centrali di committenza e del MEPA. La giornata formativa di martedì 31 gennaio sarà invece concentrata interamente nella mattinata e ci si soffermerà sulle piattaforme PON-FESR, piattaforma gestionale GPD e rendicontazione oltre che sulla piattaforma del PNRR. Tutti argomenti che saranno affrontati analizzando ogni singolo aspetto, partendo dalla normativa fino alla realizzazione delle singole fasi. Le relazioni del massimo esperto in materia, il dottor ingegnere Mario Schember, spiegano dall'Istituto Omnicomprensivo di Polla, si pongono come obiettivo quello di dare risposte alle tante domande che nascono nel momento in cui una scuola è interessata al mondo dei PON e dei finanziamenti in generale. L'obiettivo è soprattutto provare a dare risposte in tempi celeri fondate su esperienze ventennale e sulla conoscenza della normativa. Al termine del corso sarà rilasciato ai partecipanti un attestato valido ai fini della formazione in servizio. Grazie. 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 Grazie.